Si può costruire un futuro con le criptovalute? Bitcoin e le altre criptovalute sono asset estremamente volatili e da molti considerati speculativi, ma in realtà possono essere inseriti in strategie di investimento di lungo termine. Si può fare attraverso due strategie, la Dollar Cost Averaging, DCA, e il PAC, piano di accumulo del capitale. Entrambe permettono infatti di comprare prodotti finanziari mediante pagamenti a rate, con numerosi vantaggi di cui parliamo anche nel link in descrizione. Lo sapevi che il PAC deriva dalla strategia del costo medio, ben conosciuta da Benjamin Graham nel secolo scorso e poi ampiamente utilizzata da Warren Buffett. Tieni conto che un investimento a lungo termine non può contenere più del 5-10% in criptovalute, altrimenti non sarebbe più un piano di investimento ma sulla speculazione. Tieni conto poi che è anche importantissimo confrontare i costi e i rischi di investire in criptovalute con le due strategie. Alcuni strumenti di investimento in diretto presentano elevati costi di gestione e di sottoscrizione, al punto da rendere quasi poco conveniente l'investimento stesso. Investire sulle criptovalute in modo diretto, tece, comporta l'apertura di un conto wallet presso un exchange, ma in questo caso si dovranno acquisire competenze tecnologiche. Se ti è piaciuto questo video ricordati di seguirci.